Non ho bisogno di presentazioni, benvenuta a Rosio che l'anno scorso ci ha lasciato sul backdrop dei film il disegno più bello perché dovete sapere che questo backdrop che ho scritto i film e che ci hanno cambiato la vita l'avevamo anche l'anno scorso e lei arrivò e disse perché lo devo scrivere il film, il pianista e si mise a disegnare il pianista e da lì poi arrivò la Claudia Gerini che si mise a disegnare il suo film, hai dato in là una serie di artisti che hanno iniziato a disegnare invece che a scrivere quest'anno quindi dovrei cimentarti con un nuovo titolo, poi dopo Ok, intanto, benvenuta, bentornata Grazie, grazie mille, che bello essere tornata a Lido, tornata a Venezia e tornata qua da te e da voi Ho un bellissimo ricordo di questo incontro, è una delle pochissime cose che questo anno faccio ma mi andava proprio di esserci Grazie mille Senti, tu sei qui anche con un documentario importante già dal titolo, Time to Change Perché è tempo di cambiare e diventa urgente? Ma io penso che siamo sempre noi esseri umani in continua evoluzione Il mondo ci insegna che il giorno diventa notte, le foglie degli alberi cadono, escono i fiori Però è un momento per il mondo nel quale credo che, credo no, sappiamo tutti benissimo che da qualche anno abbiamo intrapreso una strada sbagliata Una strada sbagliata nei confronti, nei nostri propri confronti, nei confronti del nostro mondo, nei confronti delle persone che amiamo E nei confronti anche del nostro futuro, il mondo ci sta dando dei forti segnali che qualcosa non va E alla fine questo mondo è nostro e quindi siamo noi a dover far sì che questo mondo vada Proprio perché lui ci dona tantissime cose E' giusto che noi lo coccoliamo un po' Stanno succedendo, lo vediamo continuamente sul telegiornale, sulle pagine dei giornali Questi cambi climatici, questi incendi, piogge, inondazioni Ci sono tantissime specie in estinzione La povertà va avanti C'è sempre anche un meno spazio per parlare di quelli che hanno di meno Ancora fatichiamo a parlare di uguaglianza Ancora ci ritroviamo con notizie che a me personalmente da madre mi fanno stare male per settimane e settimane Quindi è momento di fare qualcosa di importante Time to Change è un progetto che nasce dalla sinergia di Banca Generali e Stefano Guindani Che è un bravissimo fotografo Che per due anni ha girato il mondo per raccontare questi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile Che ha lanciato l'ONU Per l'agenda del 2030 Quindi entro il 2030 noi dovremo raggiungere certi obiettivi È un progetto che nasce per i potenti, per i governi, per le grandi aziende Che anche loro, proprio perché hanno una forza, devono fare in modo di sfruttare questa forza Per fare anche delle cose belle, per fare delle cose importanti nei confronti delle persone e del mondo Ma nasce anche per responsabilizzare tutti quanti noi che dobbiamo fare qualcosa, anche piccolissima Tutti i giorni per cambiare il mondo E i piccoli gesti di uno, due, tre e già di quelli che siamo questa sera Possono fare che il mondo e soprattutto che il mondo che lasceremo in eredità Alle persone che vengono dietro di noi, ai nostri figli Alle persone che amiamo, diventi un mondo migliore Anche perché in questo momento, mi dispiace, non è una cosa drammatica Però è un momento veramente di emergenza Va fatto adesso, non c'è più tempo di aspettare E non c'è neanche tempo di parlarne È tempo di fare, no? E di fare in maniera concreta E quindi, ecco, questo progetto nasce perché a volte ne parliamo Però è come, non lo so, non riusciamo poi a concretizzare più di tanto Tu come provi a concretizzare ogni giorno? Ma in tanti modi Io sono molto attenta all'ambiente Faccio la raccolta differenziata Sono attentissima all'acqua E forse è una delle cose che mi fa più arrabbiare Quando vedo che le mie bambine aprono l'acqua E poi vanno a prendere un giocattolo O anche qualcuno cucina E lascia l'acqua che cade in la pentola fino all'eterno Mi dispiace anche da morire Andare questo estate Sono andata al mare a vedere le spiagge sporche Quindi ho dedicato una giornata con le mie bambine Come tre sfigate A raccogliere le cose Come un gioco virtuoso Ma un gioco, secondo me, va insegnato E' importante che i bambini sappiano Che veramente non ci costa nulla essere gentili nei confronti del mondo Perché alla fine è essere gentili nei nostri confronti Nei confronti degli altri Senti, prima hai detto da madre Sono preoccupata da madre Cosa cambia nella percezione del futuro Quando sei madre? Uff Perché si allunga il futuro, no? Di colpo quando hai dei figli Sì Il tuo interesse nei confronti del futuro? Ma per me E non è una cosa egoistica Però l'interesse nei confronti del futuro E anche il domani E anche il domani Di mia madre Che è una signora grande E anche il mio domani tra dieci anni Quindi ancora di più Per chi sta cominciando adesso Il suo percorso di vita E quindi percorrerà Sicuramente Logicamente Un percorso più a lungo Mi fa paura Perché vedo Che nel presente C'è Ecco Poca preoccupazione Del futuro Ma del futuro Ecco Pensato come il domani Non pensato come Cioè Dobbiamo Abbiamo un mondo così bello Siamo così privilegiati Noi esseri umani Di vivere Noi che siamo privilegiati Perché Alla fine anche La parte Del pianeta Che vive Una situazione Agiata Una minoranza Il 70% delle persone Soffrono nel mondo Soffrono la fame E a noi Non ce ne frega niente Andiamo avanti Come se niente fosse Non va bene Ma non va parlato Con tristezza O con incazzatura O con No Bisogna farlo col sorriso E bisogna Farsi che Ecco Questo progetto è bello Perché parla Tra l'altro Non lo ha deciso nessuno Lo ha deciso l'ONU No? Che ha deciso questi obiettivi E sono obiettivi che parlano Ecco Sì del nostro pianeta Ma anche Ecco Ancora la donna Viene trattata In un modo Preistorico Il mondo è giusto Che si evolva Ma cavolo È bello che si evolva In bene Se diventiamo peggiori Che palle Che evoluzione è Brava Che evoluzione è No? Quindi L'anno scorso eri Come dire Sei stata madrina Qui No? Quindi avevi Un'agenda fittissima Di impegni Così Quest'anno Che riesci a venire Come dire Senza tutti Quegli impegni Come te la stai Mi dicevi appunto Faccio solo quello che mi va No? Sono arrivata ieri E Ancora non ho visto nessun film Domani spero di vedere Priscilla Sono molto curiosa Se posso Scapperò in sala Come facevo l'anno scorso Alle sette del mattino Alle otto del mattino A vedere Dei film con i giornalisti Perché Penso che Quella è la biennale più bella Quella vera Sono belli I tappeti rossi I vestiti La cosa un po' più scenografica Che ci racconta anche Ci fa arrivare Forse ci racconta anche Questo festival In tutto il mondo È un po' Il vestito che indossiamo Però Secondo me Il festival di Venezia È bello Perché Perché il cinema italiano È bello Perché il cinema italiano Ha fatto la storia E continua a farla E in questo dobbiamo credere Tutti noi Che lo facciamo E chi lo guarda anche Anche io che lo guardo E quindi avere la possibilità Di fare ancora una volta Di creare un festival Così importante In un luogo così bello Con così tanta storia di cinema Con così tanto amore Per il cinema È un lusso È un regalo Ecco Quindi Questo anno Che sono un po' meno impegnata Che ho un po' meno responsabilità Voglio Devo dire che anche l'anno scorso Alla fine me lo sono goduta Perché era anche qualcosa di bello E ho voluto vivermi il bello Di quel festival Questo anno è diverso Ma sarà ugualmente bello Lo sai che io sono un ottimista Una positiva Mi piace nutrirmi Ecco del bello Senti Le vite personali Quando appartengono a personaggi pubblici Come puoi essere tu Spesso diventano di ispirazione anche Per tutte le persone che ti seguono E tu nella tua vita personale Hai dovuto come dire Attraversare anche Appunto Le famiglie allargate E tutto Che cosa hai imparato da Come dire Da Appunto Anche dai momenti più difficili Quando Ma in realtà Ho imparato vivendo E posso dire che Non credo che ci sia una formula Matematica O un libro di istruzioni Che funzioni per tutti Io ho provato sempre A rispettare gli altri A rispettare me stessa Anche Ho provato sempre a rispettare Il mio cuore La mia anima Le mie emozioni E questo mi ha fatto essere Essere fedele Agli altri A me Ai valori Che i miei genitori Mi hanno insegnato Quindi Io credo che Quando uno Prattica il bene Anche quando sbaglia Riceve del bene E viene anche perdonato E Alla fine Ecco Quando uno pratica del bene È difficile Che Ti torni il male Che ti torni il male No Anzi Penso impossibile Non lo so se è impossibile Però È difficile Quindi io mi sono focalizzata Ecco Sul Sulla verità Sui sentimenti Sull'essere fedele a me stessa Agli altri E all'avere grande rispetto E amore Nei confronti di tutti Senti Essere genitore In qualche modo È anche una grande lezione di vita Per ogni volta Impari Dalle tue bambini Dai tuoi figli Ecco Se dovessi Come dire Raccontare In cosa ti sorprendono Le ultime volte Che ti hanno sorpreso Beh I figli sono una scoperta continua Anzi Qualche volta Devo dire che Poi Non lo so Ogni tanto Mi capita di vivere Delle esperienze con loro O degli aneddoti Che mi devo girare Dall'altra parte Perché o mi viene da ridere O mi viene da farmi Il segno della croce E dire oddio Esatto E Sai che sono Secondo me i bambini Sono grandi maestri di vita Io ho due figlie Femmine Con le quali ho Una grande empatia Ho una connessione Fortissima Non so Naturale Non forzata E mi insegnano tanto L'una che è la più grande Mi insegna quanto Mi insegna O mi regala Mi dona Tanta generosità E mi insegna Quanto sia importante Siamo un po' egoisti Anche con questi tempi Frenetici Che ci fanno correre Poi noi che lavoriamo Quindi che dobbiamo fare Che la telefonata Deve essere fatta adesso Perché se no Non la facciamo Sembra che sta per finire il mondo No? Invece forse lei Lei pensa A guardarti A vedere Come stai Se hai bisogno di qualcosa E questa cosa Ammeto che qualche volta Mi sconvolge Quasi ribaltata Sì incredibile Mi è capitato Non molto tempo fa Di portarla con me Su un set in Norvegia Pensavo di essere una pazza Di andare in Norvegia Tra l'altro andavo a Vergen C'era uno scalo da fare Poi una macchina Era un luogo dove C'erano tantissime ore di sole Faceva un freddo allucinante A luglio E sono andata a girare Con mia figlia Senza nessuno Senza qualcuno Della mia famiglia O una tata O nessuno della produzione Che mi desse una mano Mi sono sentita anche Male Perché ho pensato Perché stavo dando Questa responsabilità A Luna A mia figlia Però volevo vivere Quella esperienza con lei E lei voleva viverla con me E' stata bellissima 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 E a un certo punto Era lei che se Se ne prendeva cura di me Era lei che Non lo so E' stata Infatti a un certo punto Ho detto forse Sto sbagliando qualcosa Come mamma Non lo Non lo Saprei neanche come Ancora Non mi do una ragione Però Però lei è venuta con me La mattina si svegliava alle 5 E lo faceva col sorriso Con la gioia Di vedere quel luogo Di farlo da sola Con sua madre No E quindi Lei è proprio Quella generosità Non so se Quella generosità Così pura Così disinteressata No Essere generoso Perché Perché è bello esserlo Perché uno sente di esserlo No Questa cosa Non so se mai Raggiungerò Raggiungerò Lei Invece Alma È quella un po' più Che adesso Mi fa più faticare Penso che nella vita Soffrirà di più Luna Perché è più fragile Alma adesso Mi fa arrabbiare Tantissime volte Fa tutto quello Che non deve fare Lei lo fa Ha quattro anni E lei Pensa di decidere Per se stessa E per tutti quanti Questa cosa Mi mette un nervoso Incredibile È indomabile È scorpione È Però Mi colpisce tantissimo La sua determinazione E penso che Quella determinazione Si Guidata bene Si Assecondata Dall'educazione Da Da un attimo Dalla direzione giusta Ma penso che Quella determinazione Li darà grandi risultati Nella vita Quindi stimolo di lei Questa sua determinazione Senti Essere molto esposti Come lo sei tu Appunto No A tantissimi follower Tantissimi Espone anche di colpo Alla parte Sì migliore di noi O di chi possiamo incontrare Ma anche Alla parte Come dire Peggiore È più facile che online Sì ti possono fare i complimenti Ma anche In qualche modo È Delle offese No Cioè alle Come dire Giovani ragazze Che No Magari appunto Pubblicano sui social Delle foto E E vengono Giudicate Cosa ti senti di Di dire In base alla tua esperienza Allora Io credo che I social Ci abbiano dato Tanto Ci diano tanto Sia anche un modo Di comunicazione Fantastico E penso che Anche Confesso che Anche un modo Di Almeno per me Di raccontare la verità No Tante volte Mi è stato aggiudicata I giornali O chi A chi non piacevo Mi volevano anche Bollare Sì volevano raccontare una me Che non era per niente La vera me Quindi A me i social Mi hanno dato la possibilità Di Essere me stessa Con pregi e difetti Uno non può piacere a tutti Ma nessuno di noi Al di là dei social Non è la vita Ci sono persone a cui piaci Persone a cui non piaci E meno male Però secondo me Dobbiamo Dobbiamo capire che Ecco Forse è anche un contrasto A me mi hanno Fatto i social Mi hanno dato la possibilità Di raccontare la vera me Ma credo Che Bisogna dargli Il giusto spazio E vivere La vita vera Quindi alle ragazze Che Che Credo che bisogna Sporsi fino a un certo punto O quanto uno sente Disporsi Ma non dimentichiamoci Prima dei social Dobbiamo vivere Ed è quello che ci rimane No? Non so quanto dureranno Sti social Forse saranno eterni Non lo so Però è importante ricordarci Io non critico Chi li utilizza di più Chi li utilizza di meno Chi ci lavora Va benissimo Però ricordiamoci Che prima di quello C'è la vita Anche perché Se no non abbiamo Un cavolo da raccontare Sui social Quindi Viviamo E penso che anche Questa cosa serva Anche per gli attori No? O per chi lavora tanto Se ci dedichiamo Se ci concentriamo Solo su lavorare Su fare un film Un altro film Una serie Ma poi A un certo punto Sei vuoto Perché non Non stai vivendo Non hai più Non hai più la possibilità Di raccontarti E di raccontare Neanche Un'altra persona Attraverso un film Attraverso un personaggio Perché hai perso il fuoco Della vita Hai smesso di vivere Quindi la prima cosa Per me è vivere Poi tutto il resto Senti ho letto Di un tatuaggio Che hai con i gabbiani Sì Lo vuoi vedere? Non so se si può Non so dov'è È qua Allora se si può Non so se lo vedete È piccolo Sembrano anche delle onde Possono essere delle onde Ok Che vuoi sapere? Domanda La storia Di questo tatuaggio Di questo segno Che hai scelto Allora Ho fatto un altro tatuaggio Questo stante Sai? Eh ma l'ho visto No quello Non me lo posso vedere Non me lo posso far vedere L'ho fatto vedere ieri con l'abito L'ho fatto per mio papà Che non c'è più E quindi Mi andava di Averlo Di averlo Non lo so Così l'ho fatto anche Non ci ho mai pensato Ne ho studiato tantissimo I miei tatuaggi Tra l'altro devo ammettere Che non amo tanto i tatuaggi E ne ho qualcuno Non so perché Ma ne vado anche fiera Anche quelli Forse che mi piacciono di meno Questo nasce in un momento Nel quale Sento di aver creato una famiglia Insieme all'uomo che amo Vedendo Alma e Luna Non sono sposata Quindi Questa sensazione di famiglia Che non avevo mai vissuto prima Mi ha dato un'enorme Mi ha dato un'enorme forza Una forza Verso il basso Verso le radici Mi ha dato un'enorme stabilità Un'enorme Non lo so Poi non so Ecco Non è detto che la mia famiglia Dure fino all'eterno Però Però è la mia famiglia La famiglia che ho creato Quella che ho scelto Non quella che mi è stata donata Quindi Per me Loro sono importanti E' importante proprio L'idea di famiglia Sapere Che loro ci sono E quindi ho voluto Averli con me sempre Averci tutti noi quattro Quindi anche io ci sono In questo disegno E' un disegno che ha fatto Raul Una sera Che l'ho invitato Perché volevo avere Una serata romantica con lui Perché era da un po' Che facevamo i genitori e basta Quindi una sera Gli ho detto Prendi una mutanda E una maglietta Che ti porto via E l'ho portato Pensa quanto sono stata Poco originale A un albergo di Roma Noi abitiamo a Roma L'ho portato Ad un albergo di Roma A fare una serata romantica E lui In questi fogliettini Che ci sono Nei comodini degli albergo Ha iniziato a disegnare Queste onde Questi gabbiani Lui nuota E' stata una bellissima serata Mi è rimasto impreso Legata alla nostra bellissima conversazione Non pensate cose strane Mi è rimasto impreso Quello disegno Quindi l'ho fregato L'ho preso Il giorno dopo Eravamo A prenderci uno sprizzo In una piazza di Roma E ho visto Un posto Che c'era scritto Tattoo E ho detto Ok Vado A me piacciono I tatuaggi sottili Sono arrivata Da questo tatuatore Dove gli ho detto Io vorrei che tu mi disegnassi Questo Sono quattro gabbiani Raul Io Luna E Alma Da più grande A più piccolo Non perché nessuno di noi Sia più grande dell'altro Ma Perché fisicamente siamo Primo, secondo, terzo e quarto E ho trovato un tatuatore Che gli tremava la mano E ho detto Non è possibile Come mi faccio fare il tatuaggio fino Fino, fino, fino I gabbiani Da un Cioè in realtà Lui subito ha detto Sì, sì te lo faccio Tra l'altro mi avevo preso uno spritz Quindi io ero in allegria E ho visto questo signore Che prendeva questa cosa Per fare il tatuaggio E mi ha detto Ok iniziamo Io ho detto Oh signore immacolato Invece è stato bravo È stato bravo È stato bravo E quindi mi piace Perché poi ce l'ho Ce l'ho vicino a me Non lo so È come Gli abbraccio loro Noi Senti Rimè ha detto Dice perché Non siamo sposati Il senso di famiglia Perché non siamo sposati Sposare Cambierebbe qualcosa Cambia qualcosa Il matrimonio È un Non lo so Perché non mi sono sposata Tu sei sposata Ok Non so Non credo che cambi niente Forse il titolo Ma chi se ne frega del titolo Infatti io mi sento Fa ridere Quando le mie colleghe Dico No perché adesso viene il mio fidanzato Vado al mio fidanzato E le mie colleghe mi dicono Ho lavorato con un'attrice napoletana Che mi diceva Ma guarda un po' questa È stata con colui Da dieci anni C'ha due figli Ancora lo chiama fidanzato Io mi sento Anzi per l'una E per Alma Noi siamo fidanzati E quindi Non lo so Se è bello o brutto Ma Ancora Non mi viene da dire Mio marito Mio Mio fidanzato Padre delle mie figlie È bello così L'amore c'è È tanto Ci scegliamo ogni giorno E penso che Boh Non lo so Non so se cambierebbe qualcosa Per adesso sto bene così Beh lo scopriremo Su Vivendo Senti Tu ti vuoi sposare? Lavinia rispondi Ti vuoi sposare? Pesca Rispondimi Una domanda ti ho fatto Pesca Ma Pesca La rifaccio? Lavinia Pesca Ti vuoi sposare? Pesca Dimmelo con gli occhi Pesca Ti prego Ti voglio sposare Ti voglio sposare Ti prego pesca questa Ti prego Marito di Lavinia Compagno di Lavinia Padre di sua figlia Ah no no Ok Mi sto ingarbugliando Sei innamorata? Pesca Pesca Ok Vado pesco Che ti ridi? Quindi? Cosa c'è scritto? Paura Non ci leggiamo più No 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 vabbè buona notte Guarda che sono una ragazzina io Eh lo so Sono io e ridi No non sono più una ragazzina No che l'avete fatto in verde Paura e desiderio Ok Qua ci sono i titoli più belli della storia del cinema Ma Quindi quello è un titolo di un film Certo Ok Cosa ti evoca dentro questo titolo? A prescindere se hai visto o meno il film Di cosa hai paura? Di cosa hai desiderio? Posso ripescare un altro? È bello? No Ma è così sempre con tutti i tuoi ospiti? L'anno scorso era un po' più Avevo pescato meglio l'anno scorso Scusa Allora sono due parole Che così Così Non mi appartengono moltissimo Non ho tanta paura In generale Anzi forse apparentemente Ho paura del buio Ma Vedi È qualcosa che le mie bambine Mi hanno regalato Loro mi hanno fatto perdere la paura Forse perché Non è che non posso averla per loro Però Nei suoi confronti Mi sento di Non lo so Ma neanche mi sento Loro mi hanno Fatto avere Fatto avere meno paura Sono più coraggiosa Da quando ho le bambine Non ho paura Della solitudine Non ho paura Del cambiamento Non ho paura Di avere paura Penso che sia anche Lecito E E basta Desiderio Ti vuoi sposare? Desiderio Sai che neanche Non Non Cioè mi sento Grata Per 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 la vita Per Per quello che vivo Per le persone che incontro Che ho incontrato Quindi Non è che ho desideri Fortissimi Anzi mi sembra una parola un po' Presuntuosa Anche se Per carità Forse è anche qualcosa Importante che ti spinge Verso qualcosa No? Avere desiderio per qualcosa Però Io più che desiderio O più che desiderare qualcosa Voglio che le cose mi sorprendano Mi prendano di imprevisto Non voglio desiderarle troppo Voglio che arrivino e mi colpiscano Bellissimo Grazie A te Vuoi dire qualcosa? Sì Il film che ti ha cambiato la vita Ancora un altro? Lo devi disegnare Così lo disegni L'anno scorso il pianista era bellissimo Ora Ma non posso ridisegnare il pianista? Un altro C'è un altro film che 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 ti ha segnato Me lo dovevi dire Perché Un film che mi ha segnato Posso disegnarlo prima? Vai Ah no Devo scriverlo Disegnarlo Devo fare il disegno? Sì Vuoi vedere se sono brava o uguale All'anno scorso? Vediamo Non so se mi sta venendo benissimo Una Una sposa Guarda che sei tu che sei infissa Puoi non dire che sono No però No vabbè Non sei disorientatissima Aspetta eh Però devi vedere l'altra parte Sì Questa è una parte Aspetta È complicato No Un attimo Speriamo che capi Secondo me Rimarrai colpita Ma veramente Sto film ti ha cambiato la vita Hiroshima Mon Amour No 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 Un attimo Però No non è streck Che streck non è bellissimo Sempre che Aspetta mi è venuto veramente male Vi voglio aiutare a capire Poi non dite che questo disegno è il mio Perché se no Devi firmare Vedi tu La bella e la bestia E' indovinato tu Marti Grande Beh è bellissimo Cioè la bestia Aspettate che però voglio vedermi Cioè adesso vi spiego Devo spiegare perché mi è cambiata la vita No? Solo amici E poi uno dice un noi Tutto cambia già Vabbè si è capito che la bestia Ma non lo so come farlo Più bestia di quanto è Abbi il coraggio di firmarlo Giuro non lo vendiamo Giuro non lo vendiamo Cioè non devo scrivere il titolo Si capisce? Si si capisce Si capisce La mano della bestia manca scusa Bellissimo Ti ho colpito? Mamma mia Certo Vorrei fare l'alba disegnando il castello Ti ho rovinato i candelabili No Ti ho rovinato il No ma è bellissimo È stupendo Perché ti ha cambiato la vita? Mi ha cambiato la vita Oddio guardate come mi sono conciata Vabbè Vabbè Possiamo andare Sì certo vai Cioè sto soffrendo in questo momento Mi ha cambiato la vita Perché Mi ha fatto capire che Che volevo diventare una principessa Cioè con i sentimenti Puri, buoni Una principessa semplice Una principessa che Non aveva niente Era povera Tieni il tuo penarello Sì Una principessa che leggeva i libri Una principessa che Non si metteva i tacchi E Riusciva a vedere E riuscita a scoprire Il bello In quello che gli faceva paura E quindi E forse Anzi non è il film che più mi ha segnato della vita Ovviamente Però forse il primo film che Che mi ha segnato Il primo film che ha Trasciato qualcosa in me La vegliai la bestia Perché io l'ho visto in spagnolo Grazie Rosio Grazie a te È finito? È finito? È finito Ok Grazie mille Grazie a voi Non dite a nessuno Che quello è il mio disegno Va bene? Rimango un segreto Grazie a voi